Magari in un'altra società ambiziosa con obiettivi diversi da quelli della regina dell'anno scorso, può essere l'anno dato a una consagrazione, cosa ne ha detto? Inizialmente buongiorno, volevo ringraziare il Novara per l'opportunità che mi ha dato e farò di tutto per ricambiare la fiducia. Devo ringraziare anche la regina perché mi ha dato la possibilità di essere qui, però il passato non conta. Poi io a Reggio mi sono trovato molto bene, anche se è stato un anno difficile, spero che quest'anno sia un anno migliore, ma lo credo e lo spero e faremo e farò di tutto che ci avvenga. L'unica promessa che posso fare, consagrazione o non consagrazione, io mi impegnerò ogni volta che avrò addosso questa maglia, l'unica promessa è questa, perché io darò sempre il 120% in tutto ciò che farò e poi mi auguro di fare ciò che vorrò e ci auguri a molti quanti. Ciao, io e Paolo siamo in camera insieme e questa è una bella cosa, quindi ci stiamo amalgamando bene e mi ha fatto solo tre allenamenti insieme, quindi ci sarà sicuramente il tempo per poterci riconoscere, come normale che sia, però credo che sia, oltre che un grandissimo giocatore, dal poco che lo sto conoscendo una bravissima persona, quindi ci sono tutti i presupposti per conoscersi e essere anche amici. Che differenze hai notato dal campionato primavera alla prima stagione con la regina e ovviamente quello che ti aspetti quest'anno? Magari c'è anche un modo diverso di giocare, non lo so, dimmelo tu. Ma allora, questa domanda mi hanno fatta veramente in tanti, perché secondo me il campionato da primavera, nonostante vi abbia fatto benissimo, ma è un campionato totalmente diverso dalla Serie B o Lega Pro o Serie A, perché i ritmi sono diversi, ci sono molti giocatori più esperti, quindi credo che sia un campionato a parte, e nonostante vi abbia fatto benissimo, come vi ho detto prima. E quindi bisogna fare esperienza, è il mio secondo anno e secondo me gli obiettivi nostri devono essere affrontare il domani, partita per partita, questo deve essere secondo me la nostra filosofia. Hai già accennato a Gonzales, così, al rapporto che si sta creando sul studio fra di voi, appunto ne approfitto per chiederti, a Novara c'è sempre stato il punto di forza del Novara Calcio, almeno con la famiglia De Salvo, il direttore Faccio, è sempre stato in gruppo. Hai già notato qualche cosa in questi pochi giorni? Hai già notato che c'è questa unità di intenti, oppure ancora presto vorrei dire ancora inserirti in meccanismo? Come gruppo credo che sia un bellissimo gruppo, già nei primi giorni che ho visti, credo che siano soprattutto i miei compagni, i miei compagni molti sono amici, i nuovi dei rapporti che amo, io sono da tre giorni qua, quindi è normale che sia un piccolo momento a me, però da questo punto di vista credo di essere molto tranquillo e credo che il ritiro anche per i nuovi serva soprattutto questo, perché se si vogliono arrivare a certi obiettivi importanti bisogna avere gruppo, perché credo che sia una delle prime cose fuori dal campo. Si è parlato anche di qualche interessamento per te alla Serie A, c'è qualcosa di concreto? Hai preferito comunque ripartire da una serie di solida, ambiziosa? Qualche interesse della Serie A c'è stato, sono sincero, però niente di concreto al massimo, e quindi ho deciso di fare di questa scelta, perché Novara credo che sia stata la prima società a credere subito in me, e quindi la devo ancora ringraziare e fare di tutto perché il mio valore sia quello che Novara vuole e che voglio io. Anche per come ha detto il Dottore Fagioli prima, si è stata proprio volata la scelta in cima alla lista proprio, ti hanno fortemente voluto. è un buro costantino che io devo farmi tutto perché di fare il meglio è il massimo che potrò fare per il mio bene, ma soprattutto a disposizione dei miei compagni di tutto Novara. E' questione anche di orgoglio comunque, è normale. Senti, il tuo modo di porti, no? D'accordo, da quanto ci stiamo rascendo adesso, le lotte per accendere le risposte che dai, ma sono certe cose di un ragazzo che esce dalla primavera ma dimostrano maturità decisamente superiore. E' una cosa che deriva nei tuoi trascorsi, sono importanti come il Torino e il Milan o è una parte specifica del tuo carattere? Ma ti ringrazio, però non lo so, io sono fatto così e forse anche, non lo so, l'educazione della mia famiglia può anche essere e che è troppo importante per me. Nonostante tutto, io sono un giocatore che non ama fare tantissime parole perché preferisco siano i fatti a parlare. Questa è una cosa che sento molto. Ciao, senti, tu sei figlio d'arte perché il papà è stato un grande calciatore. Cosa ti ha insegnato, francisticamente parlando ovviamente? Ma papà mi ha insegnato sempre di non muovere mai, spero di dimostrarlo e soprattutto di farvelo capire. Questa cosa papà me l'ha sempre insegnata, poi il papà mi dà pochi consigli ma giusti ed è un esempio per me e spero di ricalcare sicuramente le sue orme perché ha fatto più di 300 partite in Serie A. Quindi io sono Gian Mario, lui è Antonio, sono due persone differenti, però alla fine è mio padre e per me è un esempio di vita. Anche scaramaticamente il numero 11 è... Ma non lo so, guarda, i numeri dovremmo poi vederlo con la squadra, credo, quindi sono cose superflue, i numeri che devo decidere ancora con la squadra, però l'importante è ciò che dimostrano in campo, i numeri che sono cose... Ma non lo so, papà ha fatto molti numeri, ha avuto il 6, con un giocatore in difesa, e quindi non lo so, non so ancora che numero forse prendere, quindi dobbiamo deciderlo con la società, con la squadra, con il suo diarco, con l'azione, una cosa 6, certo, certo. Sì, sì, quando ho giocato davanti, 11 ce l'avrà spesso. Esatto. Mario, quanto ti rispondi tu, no? Ovviamente vai, soprattutto in questo senso. Ecco, tu sei un giocatore a metà fra Torino e Milan, tu ti puoi come prospettiva del adesso? Mi direi sicuramente io adesso sono a Novaro, proprio per rinnovare, ma quando pensi in avanti, pensiamo in avanti, pensi, mi ripeto, no? Dici, il mio obiettivo sarà quello di giocare domani nel Mieden o nel Torino, oppure tu pensi per essere quel giocatore che rientra costantemente nei giri della grande società, della grande squadra? E' un'altra, tu direi che... No, ma, mi sono sincero, anche io sono un tifoso del Torino, non è da nascondere, quindi credo che sia... C'era anche Fontana. Quindi non c'è nessun problema, però per essere calciatore, tifosi, calciatori sono due cose differenti, quindi credo che talmente ci sono delle cose nel calcio che cambiano ogni anno, che è difficile. Però è normale che un calciatore bisogna anche avere un attimo di regolarità e stabilità in una società, questo è un augurio che mi faccio, però prima che ciò avvenga bisogna dimostrare veramente, quindi chi mi vorrà in un futuro valuterò più avanti, però è normale che anche un calciatore ha bisogno, per la propria famiglia soprattutto, per la propria volontà di magari trascorrere più anni nella società, questo è una cosa che mi auguro per un futuro, e non ho problemi assolutamente di dirlo, poi se sarà il Torino, se sarà il Milan, se sarà, non lo so, qualche altra società, in Novartis, lo so. Tu, anche uno fisico, ti senti un giocatore di sfondamento, come si diceva una volta? Sì, come caratteristiche sono quelle, anche se nel calcio moderno bisogna adattarsi ad altre spazioni, soprattutto anche in fase difensiva, e poi bisogna migliorarsi sempre, quindi mi piace migliorarmi, ho tantissimi difetti, credo tanti pregi, e quindi bisogna limare i difetti, e comunque continuare a lavorare sui pregi, quindi bisogna sempre migliorarsi, però come idea sono abbastanza un attaccante, che riesce a dare rigore, un po' come può essere un giocatore, un attaccante di sfondamento, come una volta, sì. Grazie. 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 Grazie.